Musica Rassegna stampa di oggi mercoledì 8 novembre, ben ritrovati, buongiorno a tutti i cari telespettatori di Fano TV sintonizzati sul canale 17, in diretta anche su Facebook, buongiorno e tra poco vedremo i titoli delle notizie più importanti sul Corriere Adriatico e sul Carlino Allora partiamo dal Santo del Giorno, vediamolo subito Oggi la Chiesa Cattolica ricorda il Beato Giovanni Duns Scoto, sacerdote Il sole è sotto le 6.53 e tramonterà alle 16.51 Il tempo oggi, mercoledì, sarà parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti lungo la costa durante la mattinata e schiarite a tratti ampie nel corso del pomeriggio Al mattino avremo probabili piovaschi o anche brevi rovesci sparsi lungo la fascia costiera Solo localmente i fenomeni potranno essere più intensi i fenomeni che si andranno ad esaurire nel corso della mattinata Le temperature sono in lieve diminuzione, il vento di brezza leggera Giovedì, domani, 9 di novembre, domani mattina avremo un cielo parzialmente nuvoloso ma le nuvole aumenteranno durante le ore centrali della giornata Nel pomeriggio, domani, il cielo diventerà nuvoloso a tratti molto nuvoloso e ci saranno deboli e locali piovaschi i fenomeni diventeranno diffusi e più intensi nel corso di domani sera e domani notte Le temperature minime sono in ulteriore lieve diminuzione mentre le massime in lieve riprese I venti sono di brezza leggera Venerdì, 10 novembre, la protezione civile delle Marche prevede cielo nuvoloso, molto nuvoloso al mattino con nuvolosità imparziale attenuazione nel pomeriggio residui fenomeni sparsi al mattino di venerdì più probabili sui settori settentrionali della regione ma questi fenomeni si esauriranno dalle ore centrali della giornata senza variazioni di rilievo invece le temperature i venti saranno deboli il fine settimana sarà parzialmente probabilmente caratterizzato da tempo stabile Allora, iniziamo a leggere i giornali Il Corriere Adriatico in prima pagina questa mattina pubblica la notizia dell'operazione della Guardia di Finanza che ha portato in carcere concetti arrestati con l'accusa di aver prelevato somme di denaro dal patrimonio della Migliarini Store Pescara SRL causandone il fallimento con un'operazione della Guardia di Finanza di Pescara chiamata Serial Failure in carcere è finito il pesarese Riccardo Concetti 59 anni accusato di bancarotta fraudolenta in concorso ai domiciliari in concorso anche la moglie e poi a centro pagina la foto della Pellegrini che è stata sulla questione della vicenda del doping richiesta come teste si è aperto il processo a carico del medico Porcellini insieme alla campionessa tra i testimoni figura anche l'ex compagno Filippo Magnini poi nelle pagine interne del Corriere al processo Banca Marche tra le parti civili anche Banca Italia nella pagina di Fano del Corriere Adriatico questa mattina si dà ampio spazio alla Collina del Rosario sono come ben sapete in tanti coinvolto in questa cosa perché l'ho realizzata e quindi si è parlato tanto con degli articoli a dir poco fantasiosi sul resto del Carlino dove non c'era nulla di vero in tutto quello che è stato scritto tante cose sono state dette tante falsità ebbene nel silenzio per i primi giorni ho deciso di parlare con un giornalista un collega, un collega molto serio un collega del Corriere Adriatico Lorenzo Furlani ieri c'è stata dunque questa chiacchierata questa intervista che abbiamo fatto che lui mi ha fatto nella Collina del Rosario a Fano nella quale ho spiegato tutto quello che c'era da dire e se volete potete leggere il Corriere Adriatico acquistare il Corriere Adriatico in edicola questa mattina vi leggo soltanto il titolo per non togliervi la curiosità il titolo è questo ho aperto la Collina del Rosario per amore Marco Ferri svela la conversione di Međugorje dopo la nota critica della diocesi ho pianto c'è bisogno di un chiarimento e chiedo un incontro al Vescovo pronto a mostrare Ferri pronto a mostrare tutti i conti della televisione e poi comunicai il mio progetto al Vescovo ma la curia non rispose e sulle offerte le offerte servono per il mantenimento del giardino raccolti 600 euro ne spendo 5000 tutti i dettagli tutta la verità la verità è scritta sul Corriere Adriatico di questa mattina andiamo avanti l'altra pagina del Corriere la pagina di Fano emergenza abitativa quelle norme da cambiare e l'assessore Barniesi sulle case popolari dice servono verifiche dopo l'assegnazione dalla Valle del Cesano arrestato il quarto malvivente al volante sperono i carabinieri si chiude il cerchio delle indagini su una banda di ladri Rom che colpì a Pergola fiato sospeso a Marotta per la Corte Costituzionale ieri la seduta le parti non si pronunciano tema tecnico aspettiamo le decisioni dunque è durata 45 minuti l'udienza ieri mattina in Corte Costituzionale i giudici della consulta insieme agli avvocati delle parti sono stati riuniti per ascoltare la relazione affidata al giudice Nicolo Zanon dunque gli attivisti al momento sono in attesa e cercheranno di sapere più presto se Marotta resterà unito oppure verrà di nuovo divisa ma non credo proprio Senigallia è agli arresti per un giro di squillo ma ha ottenuto una casa popolare protesta che è rimasto escluso dalla graduatoria la donna ha perso il lavoro e ha due figli sono in consegna le ultime abitazioni ma ancora 35 richieste non sono state accolte da Osimo ero sul ponte mentre crollavo continuo a sognarlo ogni notte una notizia che ha fatto il giro dell'Italia se ne è parlato tanto di quella vicenda di quella tragedia del ponte crollato sulla 14 vicino vicino a Loreto ebbene quella tragedia in autostrada sono stati ascoltati i tre operai che il 9 marzo stavano lavorando proprio sui ponteggi e racconta questo testimone ero su quel ponte mentre crollavo e continuo a sognarlo ogni notte dalla Cina l'altra notizia terribile che ha colpito la città di Fabriano dalla Cina è arrivata la conferma un incidente la morte di Anna secondo gli inquirenti la giovane fabrianese sarebbe precipitata nel tentativo di chiudere una finestra area camper torniamo in provincia e parliamo e apriamo la pagina di Pesaro del Corriere area camper e bocciodromo parte il cantiere dell'open air in via dell'acquedotto a Pesaro gli operai sono già al lavoro per realizzare l'area di sosta attrezzata pronto il bando per l'impianto l'impianto sportivo con tribuna spettatori e parcheggio da 200 posti parchè e frastuono risico delle palestre chiude l'hangar e il pavimento va all'arena bonificata dal rumore e poi due proposte per la gestione della piscina scaduto il bando per via Togliatti in corso copernuoto e fisiotronic ancora dal Corriere Adriatico bancarotta tre arresti concetti in manette il crack di una catena di storia pescare porta in carcere l'imprenditore pesarese fede da testimonial a testimone anche Federica Pellegrini convocata come testa al processo a carico del medico Porcellini nell'elenco oppure il suo ex Filippo Magnini ieri prima udienza tecnica assenti gli imputati ancora dalla pagina di Pesaro dal Corriere Adriatico intanto è stata ritrovata la barca rubata ma è senza motore il cliente di un bar ha riconosciuto il natante dalla foto sul Corriere Adriatico era abbandonato in via Lombardia e poi sopra dai commercianti alla piccola cantieristica ultimatum sulle aree degradate del porto il comitato della nautica chiede un piano organico per poter intervenire a sostegno delle imprese troppa pioggia la segnaletica non tiene slitta il nuovo rondò rinviata la sperimentazione sulla statale dobbiamo vedere le previsioni del tempo e poi ai fornelli con il maestro Rossini con tipico punto it quattro serate sotto la guida di Raffaello De Feo piccolo imprenditore trovato impiccato ritrovato morto familiari e carabinieri siamo a Monbaroccio lo cercavano da ore nell'auto ha lasciato un biglietto disperazione per il lavoro che manca da Monbaroccio fino a Tavernelle per uccidersi davanti al casolare che sperava di poter ristrutturare si chiamava Giampiero aveva 51 anni ed era il titolare di una piccola impresa di costruzioni di Monbaroccio uno di quegli artigiani che vivevano grazie alla propria ditta individuale caricandosi sulla schiena lavori e rischi di un settore che negli ultimi anni hanno sofferto più di tutti per il perdurare di una spirale economica negativa Eternit nella discarica abusiva da Monte Felcino dal Corriere ancora il materiale è emerso nel corso dell'intervento di recupero di rifiuti accatastati pezzi di fibro cemento di diverse grandezze che complicano adesso la bonifica dell'area e adesso apriamo il resto del Carlino il tramonto di concetti questa è la pagina principale la fotografia arrestato per bancarotta il noto imprenditore pesarese la moglie e i domiciliari sono accusati di aver svuotato i conti per 6 milioni di euro di una loro società che opera nella grande distribuzione la pagina di Fano invece la città cerca identità con gli stati generali della cultura fanese l'obiettivo diventare capitale nel 2021 poi una notizia vecchia di due giorni fa un incidente poi fuggere intracciata una signora con un SUV mentre questa è una notizia molto bella che è davvero straordinaria direi da Urbino mamma e tre figlie studentesse si laureano tutte in contemporanea scrive Lara Ottaviani questa bella bellissima storia che vale la pena leggere si laureano pensate tutte e tre contemporaneamente ed è un record per questa famiglia la famiglia Bardelli la nostra dicono dice la mamma è una famiglia molto unita hanno vissuto in un college tutte insieme una di queste figlie condivideva la camera con la mamma e alla domanda appunto della Ottaviani della giornalista è per le feste notturne e loro rispondono a noi non ci interessavano la signora Ulzer dice a volte la gente ci chiedeva se noi fossimo qui in gita a Urbino invece erano qua per studiare e si laureano praticamente tutte e quattro Michelle Sara Daniela che sono tre sorelle con la loro mamma Martina davvero complimenti una bella storia andiamo sull'altra pagina del Carlino Babuccia è qui la festa tutto pronto per il morbido cioè Morbidelli lui sul palco e forse arrivano anche i piloti dell'Accademy si inizia dal pomeriggio di sabato 18 dunque tutto pronto per la festa a Franco Morbidelli nel quartiere peserese di Babuccia la pagina di famo del Carlino la zona trave è dimenticata dal comune residenti arrabbiati tra buche allagamenti carenza di luce e mancanza di gas e poi la casa albergo invece da Urbino la casa albergo è chiusa diteci perché il PD contro la giunta Gambini ci sono ritardi nei lavori di adeguamento secondo l'opposizione urbinata qualcosa non torna sui tempi di riapertura promessi l'ultima pagina da marotta del Carlino col nuovo parcheggio sosta gratis a tutte le ore parla l'assessore Lucia Catalani questo intervento migliorerà l'intera viabilità entro tre mesi dipenderà dalle condizioni del meteo ma i lavori dovrebbero finire in 90 giorni la resegna stampa di Fano TV occhio ai giornali finisce qui 338 49 68 250 come sempre a vostra disposizione per inviare le vostre segnalazioni le vostre immagini le foto i video o semplicemente un messaggio di testo questa sera invece alle 20.30 c'è il telegiornale Occhio alla Notizia a cui seguirà primo cittadino ospite il primo cittadino di Colli al Metauro Stefano Aguzzi quindi se avete domande da rivolgere al sindaco potete già farle adesso ce le potete scrivere brevi sintetiche inviando le vostre domande appunto al 338 49 68 250 oppure ci sentiamo stasera in diretta grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata grazie a tutti grazie a tutti